Noi con Vannacci si presenta in Abruzzo, conferenza stampa Montesilvano, aspettando l'arrivo del generale prima di Natale. Lo sguardo è rivolto al futuro del movimento e alle prossime scadenze elettorali insieme al centro-destra. Il generale Vannacci, hanno detto Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale del movimento, Iomberto Fusco, presidente di noi per Vannacci, è atteso in Abruzzo, come detto prima di Natale. Gli esponenti del movimento anche hanno ribadito che i rapporti con la Lega sono buoni e che ciò che dice Vannacci tutti lo pensano, ma nessuno ha il coraggio di affermarlo. Ascoltiamo Bellachioma. Oggi è la prima conferenza stampa di presentazione di un movimento legato all'onorevole generale Roberto Vannacci, che ha avuto il suo battesimo il 19 di settembre a Viterbo. È un movimento riconducibile a lui. Stiamo cercando di capire anche all'interno dello scenario politico abruzzese quali possono essere i margini di una collocazione, ovviamente nel centro-destra. Saremo disponibili al colloquio e all'interlocuzione anche con gli altri partiti del centro-destra. Nasciamo da poco, però vi posso dire che ci sono già moltissime richieste di adesioni da tutto l'Abruzzo e quindi le prossime mosse saranno quello di organizzare degli incontri e delle riunioni sulle quattro province e poi di dare via un tesseramento che ovviamente ci darà il riscontro sul territorio di quello che è il consenso che l'onorevole Vannacci ha in questo momento in Abruzzo, dove partiamo con un bacino di voti di 16.170 preferenze che lui ha avuto, che corrispondono al 3,25% dell'elettorato abruzzese. Quando sarà Vannacci in Abruzzo? Spero prima di Natale. Il presidente di Noi per Vannacci, il senatore Umberto Fusco. Adesso noi stiamo lavorando, organizzando questa associazione culturale, Noi con Vannacci, è una delle due associazioni che rappresenta l'idea di Roberto Vannacci sul territorio nazionale, l'altra che è nata prima di noi, che è il mondo al contrario. Noi stiamo lavorando, organizzando questa associazione su tutto il territorio e oggi siamo qui in Abruzzo, che sono molto entusiasta perché ho trovato delle persone entusiaste di queste associazioni che cominciano a lavorare. Presentiamo il coordinatore regionale che rappresenterà in totus, in tutto, l'associazione qui in Abruzzo. Presidente, le sa che a Pescara tra qualche giorno ci sarà il G7 sulla cooperazione e lo sviluppo? Sì, questo è un buon segnale, vuol dire che cominciamo e credo che Pescara è una città molto importante e sarà senz'altro all'altezza della situazione per rappresentare l'Italia in questo G7. Oggi noi cominciamo...